Benvenuti a Mercato Flash, la rubrica settimanale di Ciderweb dedicata al mercato dell'acciaio. Dopo gli aumenti di novembre ed inizio dicembre, sembrano essersi stabilizzati i prezzi del rottame ferroso in Italia, complice l'approssimarsi delle festività natalizie. Per quanto riguarda il trend a gennaio, si registrano opinioni contrastanti, ma in ogni caso si tende ad escludere variazioni di prezzo significative. Calma piatta nel mercato del rottame di acciaio inossidabile. La richiesta è bassa a causa della scarsa domanda da parte dei clienti delle acciaierie sia di lunghi sia di piani. Allo stesso tempo la disponibilità di materiale alla raccolta non è elevata, pertanto il prezzo è rimasto sostanzialmente invariato. Continua a risultare fiacco il mercato nazionale della Ghisa, ma le potazioni sembrano aver toccato il fondo, considerati soprattutto i rincari dei costi energetici. Gli operatori del settore nutrono aspettative di rialzo a seguito dell'aumento dei prezzi internazionali del rottame. Il mercato internazionale delle billette si è ripreso dopo un ottobre piatto e i prezzi sono cresciuti sulla scia degli aumenti di rottame e prodotti finiti. Per l'inizio del 2024 si prevede un aumento degli ordini. Per le bramme si segnalano una discreta domanda da parte dei clienti italiani e prezzi in tensione. Il basso livello della domanda finale e il destoccaggio sono le due forze che stanno caratterizzando il mercato nazionale dei prodotti piani in acciaio inossidabile. Resta contenuto il carico di lavoro delle acciaierie, mentre alla distribuzione si segnalano l'aumento della concorrenza tra operatori e un forte schiacciamento dei margini. La limitatezza dell'offerta è il fattore che più di tutti sta sostenendo i prezzi dei COIS a livello sia italiano che europeo. Nonostante il rallentamento degli ordini a seguito del ristoccaggio avvenuto a novembre, i produttori sono decisi ad effettuare un secondo passaggio di aumento dei prezzi per le consegne di febbraio. La distribuzione continua a lamentare nel frattempo forti difficoltà nell'ottenere aumenti di prezzo e quindi grossi problemi di marginalità. Sono in corso aumenti di prezzo anche nel comparto delle lamiere da treno, a causa dell'aumento delle quotazioni delle bramme. La domanda reale resta tuttavia compressa. Nel mercato del tondo per cemento armato, i produttori in generale stanno cercando di rafforzare le quotazioni a fronte degli ultimi aumenti dei prezzi della rottame, nonostante una domanda finale piuttosto fiacca. Si rileva una forte incertezza circa la tenuta dei prezzi del prossimo anno. Infine si appresta a chiudere l'anno senza particolari scossoni il comparto dei tubi senza saldatura. Nonostante la carenza di ordini, i prezzi nelle ultime settimane hanno subito solo qualche lieve flessione, mentre le previsioni per l'inizio dell'anno prossimo sono per dei moderati rialzi sulla scia dell'aumento dei costi. Per questa volta è tutto, l'appuntamento con Mercato Flash è a venerdì per una sintesi dell'anno appena trascorso.